Un weekend di incidenti in provincia di Milano il più grave è quello avvenuto a Zibido San Giacomo dove è rimasto ucciso un motociclista troppo gravi le ferite riportate il 55enne residente a Zibido non ce l'ha fatta e dopo un giorno in terapia intensiva le condizioni dell'uomo sono precipitate peggiorando in poche ore violentissimo l'impatto con una Jeep lungo via Longarone all'incrocio con via Zibido la polizia locale sta lavorando per definire l'esatta causa dell'incidente che dalle primissime ricostruzioni potrebbe essere una mancata precedenza ora il conducente della Jeep un uomo di 45 anni potrebbe rispondere di omicidio stradale saranno le indagini a chiarire ogni responsabilità ma anche l'abbia tense è colpito da due incidenti che hanno portato a ricoveri in ospedale il primo incidente si è verificato ad Abbiategrasso poco dopo l'una di notte secondo quanto ricostruito dall'agenzia regionale di emergenza e urgenza un auto con alla guida un uomo di 55 anni è uscita di strada mentre percorreva l'alzaia del naviglio grande l'allarme è scattato con il codice rosso e sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica oltre ai carabinieri di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano l'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Magenta il secondo incidente avvenuto invece poco dopo le quattro lungo la strada che unisce Morimondo a Ozzero la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco il conducente finito all'ospedale San Matteo di Pavia ma altrettanto certo è il fatto che le strade della Biatense come già reclamato più volte a città metropolitana da parte dei sindaci necessitano di importante messe in sicurezza visto gli incidenti ripetuti che si susseguono di settimana in settimana